Truffe online raffica i danni di residenti della montagna pistoiese. Nell'arco di pochi giorni i carabinieri hanno denunciato cinque persone ritenute responsabili di truffa e possesso di documenti identificativi falsi. Secondo gli inquirenti, alla base del fenomeno ci sarebbe la crescita esponenziale degli acquisti online durante il periodo Covid. Per i più inesperti è facile finire preda di truffatori che dopo essersi fatti accreditare il denaro spariscono nel nulla senza consegnare la merce. È quanto accaduto per esempio a una donna di San Marcello Piteglio che dopo aver notato sulla bacheca virtuale di un social una PlayStation 5 a soli 500 euro, volendo acquistarla per il compleanno del figlio ha deciso di mettersi in contatto con il venditore, il quale per rassicurarla e invogliarla e effettuare subito il versamento le ha suggerito di affrettarsi poiché era già in trattativa con altre persone. Il truffatore aveva pensato anche ai dettagli, ha infatti inviato alla donna via WhatsApp una foto con i propri documenti di identità, poi rivelatisi falsi. Sorte simile è toccata a due residenti nel comune di Sambuca che, volendo acquistare online un motore per auto e delle carene per un motociclo, hanno effettuato versamenti di 1.000 e 2.000 euro. Anche loro, naturalmente, senza vedersi recapitare la merce.